Ciao a tutti e a tutte, eccomi qui con un nuovo video! Ah, quanto tempo che è passato dal video precedente! Lo so di avervi premesso il What's My iPhone updated, solamente che questo obiettivo che ho in questo momento è enorme, ha un sacco di zoom, infatti ho sempre problemi con l'inquadratura e l'audio perciò per fare il What's My iPhone devo aspettare che mi arrivi l'obiettivo piccolo e quindi lo farò appena mi arriva premesso e so che è un video che mi piace un sacco vedere quindi sono anch'io felice di farlo oggi invece ho deciso di fare un video che non ho ancora mai fatto e non so come andrà a finire questa cosa perché non sono molto tipa da questo genere di video ma ci provo lo stesso ed è il Month's Favorites dato che è appena finito luglio ovviamente sarà il July Favorites dove vi farò appunto vedere i miei prodotti preferiti del mese spero di non dilungarvi troppo e spero che vi piaccia! Enjoy! Le prime cose che vi faccio vedere sono dei prodotti di make up e di bellezza per il viso, corpo e queste cose qui quindi chiamiamola categoria beauty Ho da farvi vedere due mascara il primo è quello della Maybelline, il The Colossal Go Extreme Mascara ed è questo giallo con le linee rosa e devo dire che questo è il mio mascara preferito in assoluto l'ho usato tantissimo e mi piace davvero tanto l'effetto che ha sulle mie ciglia mi è arrivato l'ossaggio devo dire che mi piace un sacco l'effetto che ha sulle mie ciglia perché le divide, le arriccia cioè è stupendo, è stupendo, veramente stupendo e ora che è finito lo uso lo stesso come per dare un po' di forma alle mie ciglia e funziona ancora da dio, quindi è fantastico il secondo che vi faccio vedere è questo della Kiko ed è il Volumize Plus Active Mascara e lo uso per separare le ciglia inferiori e quelle inferiori un po' meglio da abbastanza volume ma la cosa principale che fa questo mascara che ha uno scovolino che io chiamo d'albero nella palle è appunto separare abbastanza bene le ciglia e devo dire che lo fa bene la terza cosa di makeup che vi faccio vedere è un rossetto quello della Double Touch di Kiko numero 101 eliminate la parte con il lip gloss e tenete conto di questa che è questo marrone naturalissimo, non so se si vede è un marrone assolutamente naturale ed è un colore che mi piace da impazzire perché quando non ho molta voglia di truccarmi oppure quando ho già truccato gli occhi e voglio rimanere neutra sulle labbra metto questo e dura davvero tantissimo perciò devo dire che è un colore che mi piace da impazzire e proprio boh è un rossetto che merita in Olanda sono stata da The Body Shop e ho preso due cose una crema per il corpo che è alla pesca classica crema per il corpo della The Body Shop e una cosa che amo della The Body Shop è che ha delle creme dei prodotti con dei profumi allucinanti sono veramente buonissime questa è la pesca e profuma davvero di pesca e lascia la pelle molto molto morbida perciò devo dire che è una crema che funziona benissimo e inoltre tutto è anche molto grande quindi dura parecchio la seconda cosa che ho preso invece è uno scrub al pompelmo anche questo ha un odore fantastico e devo dire che anche questo funziona molto bene perché lascia la pelle molto morbida e sfoglia veramente bene e perciò devo dire che anche quest'anno non sono rimasta delusa dalla The Body Shop ho usato davvero tantissimo questo cleanser della Natura Mia che sembrerà strano da dire ma ho comprato da Italy perché è un cleanser della Natura House perciò ho usato prodotti biologici e non chimici e devo dire che mi è piaciuto un sacco ha un latte detergente con olio di mandorle in complesso multivitaminico e posso garantire che lascia la pelle morbidissima e toglie davvero 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 tutte le pelicine morte penso che sia un prodotto fantastico ma veramente stupendo e come lo uso? dopo essermi struccata con il sapone della Dove perché per chi non lo sapesse odio gli struccanti passo questo che è tipo una sorta di crema barra sapone veramente proprio gentile sulla pelle e mi piace da bollire lascio la pelle davvero davvero morbida ultime due cose che vi faccio vedere per la sezione bellezza sono un profumo di Victoria's Secret che si chiama Love Spell e l'ho preso in Olanda che è alla ciliegia e alla pesca e devo dire che ha un odore che personalmente mi piace un sacco e penso che sia il mio profumo dell'estate ovviamente i profumi sono sempre soggettivi perciò bisogna sempre sentirli prima di comprarli se dovessi trovare questo qua e se vi piace compratelo perché questa catena di profumi della Victoria's Secret dura parecchio sul corpo e non è troppo pesante molti di voi mi hanno chiesto come faccio ad avere i capelli ricci di botto vi spiego brevemente i miei capelli sono pazzi fanno quello che vogliono ed estate con l'umidità specialmente quando vado al mare qui c'è il sole, il sale esco da doccia e da giugno dico ciao, addio, arrivederci al phon perché rovina i capelli già il sole li rovina insieme al sale insieme a tutto il resto perché dovrebbe rovinarmi anche il phon che è inutile ok, parentesi chiusa i miei capelli appunto sono pazzi e dipende spesso dai giorni ogni tanto dopo la doccia sono ricci perfetti da soli ogni tanto sono tipo mezzi mossi mezzi più mossi mezzi meno mossi quindi non mi piacciono tanto e per farli per davvero ricci devo usare la spuma sto usando al momento questa spuma della Pantene che è la Ricci Perfetti tenuta estrema quindi la tenuta più forte è la 5 e prima però usavo quella della Garnier mi pare si chiamasse Idra Ricci quella lì mi piaceva davvero da matti mi faceva dei capelli bellissimi però l'ho finita non ce l'ho qui purtroppo ho ricomprato questa e sì funziona abbastanza bene perché la tenuta che dice è forte è forte per davvero solamente l'unica cosa che non mi piace di questa spuma è un po' la consistenza non so neanche come spiegarla però è molto arrivosa non so non mi piace più di tanto la consistenza però devo dire che come spuma va benissimo una cosa particolare che voglio farvi vedere questo mese è questa borraccia della Brita per chi non sapesse che cos'è la Brita è una marca che fa depuratori per l'acqua questa è una borraccia sostanzialmente che qua sotto sotto il beccuccio ha un depuratore perciò l'acqua che si mette qua è sporca ma quando la si beve viene depurata e devo dire che è una cosa geniale perché la puoi riempire ovunque e l'acqua che si depura così gratis come detto mi pare nel spring tag l'acqua d'estate per me è essenziale perciò la devo sempre portare dietro e questa cosa mi permette di avere acqua ovunque ma ovunque perciò devo dire che è un prodotto che adoro passando alla sezione libri voglio farvi vedere due cose la prima è Cosmopolitan una rivista e questo mese in copertina avevano Katy Perry e io lei la stra adoro è fantastica e hanno fatto un articolo su di lei cioè un'intervista che mi è piaciuta davvero tantissimo perciò credo che ad agosto ricoprerò assolutamente Cosmopolitan perché è una rivista che mi è piaciuta un sacco perciò non sono tipo da rivista in realtà infatti mi stupisce questa cosa però Cosmopolitan mi ha conquistato il cuore libro del mese The Samurai I turn pretty molti di voi mi hanno chiesto che libro stavo leggendo in inglese ed è questo non è tanto difficile in inglese ve lo posso assicurare nel senso che ci sono ok qualche vocabolo che non conoscevo però si poteva benissimo leggere senza problemi la storia è stracarina ma veramente carina e ho tra l'altro scoperto che esiste anche in italiano l'autrice è Jenny Han purtroppo non mi ricordo il titolo in italiano però insomma lo trovate sperando che lo trovate e niente mi ha piaciuto un sacco canzone del mese ho ascoltato davvero tanto le Little Mix e penso che la mia canzone del mese loro sia Move Move mi piace davvero tantissimo e Maps dei Maroon 5 sono le due canzoni che ho ascoltato di più e bolle a due invece come applicazione del mese mi sembrerà strano consigliarvela ma vi consiglio l'oroscopo e si chiama Oroscopo HD mi pare ed è un'applicazione che ha come simbolino un occhio con la villa gialla e tre triangoli come ciglia e è stupendo come applicazione io sono fissata con l'oroscopo perché boh è troppo vero ma veramente troppo vero e in questa applicazione ci sono tantissimi test e tantissime cose riguardanti l'oroscopo che sono stupende perciò mi piace da impazzire che dire questo video è finito spero vi sia piaciuto ricordatevi che qua sotto ho tutti i miei social network link a varie cose dove potete trovarmi e lasciatemi qua sotto un commento scrivendomi cosa sono le cose preferite vostre del vostro mese del vostro luglio e niente un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.